Musica Musica Io e lui siamo di Pordenone, lui è un misiaco e siamo trovati la a suonare con un giriac Il giriac In giriac In tala cantina del giriac Musica 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 Il confine viene tracciato soprattutto da chi detiene forze maggiori, si cerca di decostruirlo ma rimane sempre all'interno di quello stesso territorio dove c'è anche lì una cerca di gente che vuole decostruirlo Io sono la perro nostro, non sono mica toglie crotte che scrive Doi togs di figuette, come chi di colmonte o di chi di capri E' la perro nostra La perro potere Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.